Buongiorno a tutti da Daniele e benvenuti a RistoNews. L'autunno è più caldo con le nostre offerte. Non perderti la novità da gustare, tiracchina. Ecco i commenti di chi l'ha già provata. Ottima ne mangerei due di fila, la proporrò subito per i miei aperitivi. È comoda con la sua forma stretta e lunga. All'acquisto di un cartone misto di tiracchina riceverai subito in omaggio il pane Biomix dell'Edna. Risparmi a tempo e denaro. Utilizza il pane surgelato Agritec. È subito pronto e fragrante, senza sprechi. All'acquisto di tre cartoni diversi avrai subito 200 punti per club solo se possiedi la Risto Quality Card. Porte aperte Risto Più. Da ottobre ogni venerdì dalle 15 alle 17 nella nostra sede di Varedo. Il primo venerdì del mese si terrà l'Academy del Ginseng, il secondo venerdì del mese l'Academy del Coração, il terzo venerdì del mese i primi e i secondi piatti, il quarto venerdì del mese l'Academy del Pane e dei Panificati. È totalmente gratuita, i posti sono limitati. Scegli il corso Academy a cui vuoi partecipare. Chiama De Lazzari Ruggero e prenota subito la tua partecipazione al numero verde 800 07 8844. Le verdure sempre pronte, bondwell, veloci da preparare, senza scarti, la convenienza aumenta. All'acquisto di quattro confezioni diverse su tutta la gamma, se possiedi la Risto Quality Card, ti verranno accreditati 200 punti per club. I nutrizionisti raccomandano di mangiare almeno 5 volte al giorno frutta e verdura. Bondwell ti aiuta a soddisfare questo bisogno. Speciale sottocosto. Tanti articoli di alta qualità con uno sconto assolutamente unico, il 50%, solo se possiedi la Risto Quality Card. Su snack formaggio alle erbe, snack pomodoro e basilico, polpa vera pomodoro, liquirizia panda, dessert gelato Monte Carlo, quadretto albicocca e vaniglia dell'arina, diamante e mela e mora dell'arina e chocolate brownie steak. E se non hai la Risto Quality Card, avrai lo sconto del 25%. Speciale antipasti aperitivi e finger food. Acquista un sacchetto di olive e subito per te in omaggio un sacchetto di mozzarella. Solo se possiedi la Risto Quality Card. October Fest. Si beve la birra. Come guadagnare tanto con la birra e il pane e brazel? All'acquisto di due cartoni diversi di pane e brazel, se hai la Risto Quality Card avrai lo sconto del 15%, altrimenti avrai uno sconto del 5%. Speciale paninoteca. Ideali per arricchire i tuoi snack. All'acquisto di sei confezioni diverse, riceverai, solo se possiedi la Risto Quality Card, 200 punti per club. Problem Solver. Chiama al nostro numero verde 800 07 88 44. Non farti scrupoli. Chiamaci subito e risolveremo insieme il problema. Se il prodotto non ti piace, basta restituire il cartone con il prodotto rimasto e ti sarà immediatamente rimborsato il costo. Snack Last Minute. I prodotti STER fatti apposta per te. All'acquisto di tre cartoni diversi, subito gratis la valigetta 24 ore. Solo se possiedi la Risto Quality Card. Novità da Barilla. All'acquisto di tre cartoni di pasta IQF da 4 kg, subito gratis per te, 500 g di pestola genovese. Delissimi daily, Franz. Gli unici curvati a mano. Se possiedi la Risto Quality Card avrai lo sconto del 15% se acquisti tre cartoni diversi, altrimenti lo sconto sarà del 5%. Le specialità che piacciono a tutti, anche ai ragazzi e ai bambini. All'acquisto di tre referenze diverse di prodotti AIA avrai 200 punti per club solo se possiedi la Risto Quality Card. Le 5 regole per lavorare bene insieme. Se rispetti le regole, lavoriamo meglio insieme. È fondamentale rispettare i termini di pagamento in modo preciso. Ogni banco freezer deve fatturare almeno 2.500 euro di prodotto. Ogni forno deve fatturare almeno 2.500 euro di croissante e pane. Ogni attrezzatura restituita a Risto Più deve essere ben pulita. I primi 4 acquisti dovranno essere pagati alla consegna. Per qualsiasi problema con Risto Più, chiama subito. Lo risolveremo insieme. Numero verde 800 07 88 44. E non dimenticare l'almanacco di Risto Più. Se hai delle curiosità da dire sulle ricorrenze sugli onomastici del prossimo mese, contatta debora.gotti.chiocciolaristopiulombardia.it Daniela vi saluta e vi aspetta la prossima Risto News.